Tutte in campo nella giornata di domani alle ore 15 le 4 squadre di capitanata presenti nel girone A di eccellenza. Bitrito Norba, Lucera, Cosmano Sport, Santeramo, Sporting, Apricena, Atletico, Acquaviva e Troia, Virtus, Palese i match in questione validi per il ventesimo turno di campionato. Partendo da Lucera, la squadra Sveva arriva al suo appuntamento da terza classificata a quota 40 e dal successo ritrovato a distanza di tre gare contro il Canusium per 4 a 1. Sarà impegnata invece in casa la Cosmano Sport che all'ex FGC attende il Santeramo. La formazione foggiana viene dal 3 a 1 subito sul campo della Virtus Palese e appaiata al nono posto con 23 punti. Va a caccia dei tre punti che mancano dallo scorso 7 gennaio. Per quanto concerne Sporting, Apricena, Atletico, Acquaviva invece, i padroni di casa sono chiamati a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta subita a Capurso contro la Capolista per 5 a 0 e presidiano la penultima posizione con 10 punti all'attivo. Sono infine 29 i punti conquistati da parte del Troia che se la vedrà tra le mura amiche contro la Virtus Palese. I gialloverdi sono fermi al sesto posto a quota 29 e sono stati piegati 1 a 0 domenica scorsa dall'Atletico Acquaviva in trasferta.